È un ospedale dall'aspetto diverso, quello che ci si presenta davanti agli occhi in questi giorni segnati dall'emergenza Covid-19. Spazi e corridoi del Cardarelli di Campovasso sono deserti, un silenzio assordante, pochissime persone. Sembra quasi una nave in mare con i motori spenti e invece nei reparti il lavoro non si è mai fermato, anzi. Siamo entrati con le nostre telecamere nella rianimazione, il luogo dove vengono curati i malati più gravi di coronavirus. Il primario del reparto, Romeo Flocco, ci fa strada, ci spiega l'eccezionale lavoro svolto negli ultimi mesi, parla con orgoglio dei suoi collaboratori. Diciamo che sono stati 100 giorni che ci hanno cambiato la vita. Questa è la pandemia più grave di tutta la storia moderna del pianeta, quindi si può capire che cosa è stato per noi. Sicuramente la vita in Molise è cambiata. Noi abbiamo avuto la fortuna rispetto al nord di avere una settimana di tempo per prepararci, per cui siamo riusciti ad organizzarci prima di avere un certo numero di ricoveri nella nostra rianimazione e nel reparto di malattie infettive. Un reparto, quello di rianimazione, che funziona dunque a pieno regime nonostante l'emergenza coronavirus. Nelle ultime ore qualche voce si era levata parlando di criticità. Flocco per questo spiega come è stata affrontata l'ultima emergenza, quella del motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Castelpetroso. In contemporanea è stata fatta la stabilizzazione delle funzioni vitali con prestazioni di rianimazione e come sapete le prestazioni di rianimazione non sono legate a un luogo fisso, ma sono delle azioni che possono essere effettuate dove servono. Dopo la stabilizzazione delle funzioni vitali, nel corso della notte, il paziente ha subito gli interventi necessari per correggere le lesioni. Infatti si trattava di fratture multiple, lesioni vascolari, lesioni toraciche e lesioni addominali. Quindi nella notte, con un approccio multidisciplinare che contraddistingue il nostro ospedale, l'ospedale Cardarelli, che comunque dà, nonostante le polemiche esterne, dà sempre una risposta quando si tratta di urgenze di questo tipo, abbiamo trattato tutte le lesioni, contemporaneamente abbiamo fatto la diagnostica per il covid, che è necessario, completata dalla stabilizzazione delle funzioni vitali, abbiamo programmato il trasferimento nell'adiacente rianimazione del gemelli molise, quindi senza nessun tipo di problema. A questo proposito c'è da dire che il gemelli molise è sempre stato disponibile, per cui non abbiamo in realtà avuto grandi problemi per quanto riguarda la rianimazione dei pazienti non covid, perché se pensiamo a un grande ospedale strutturato in padiglioni, spesso il trasferimento da un padiglione all'altro presuppone la stessa distanza che c'è tra il Cardarelli e il gemelli molise. Perché l'abbiamo trasferito nella rianimazione del gemelli molise? Perché nella nostra rianimazione abbiamo ancora dei pazienti covid, e per cui non possiamo rischiare di trasmettere l'infezione virale, l'infezione covid, né ad altri operatori né ad altri pazienti. Ecco dottore, ci puoi spiegare in che cosa consiste la rianimazione nel paziente che ha il coronavirus? Abbiamo capito una cosa, che è un'infezione molto seria, che quando determina la sindrome grave della polmonite intestiziale, ha delle manifestazioni severe. Infatti è una infiammazione che interessa l'endotelio. L'endotelio è la parete interna di tutti i nostri vasi, delle arterie e delle vene. Quando l'endotelio è infiammato, c'è una compromissione dell'ossigenazione di tutti gli organi, per cui abbiamo un'insufficienza multiorgano. L'insufficienza più evidente è l'insufficienza respiratoria collegata alla polmonite intestiziale. Ma abbiamo notato, noi in rianimazione abbiamo gestito 14 casi, quindi il numero comincia a essere importante, abbiamo notato che c'è anche una compromissione della funzione neurologica. Infatti spesso nei pazienti guariti ci sono ancora nella fase di riabilitazione dei deficit neurologici periferici da recuperare. Abbiamo notato dei problemi epatici e dei problemi renali. Per cui è sicuramente una malattia multidistrettuale severa con elevato rischio di mortalità.